Ho bisogno, dite! Date un guardo anche a lui! Aspetta, la punizione non è finita! Aspetta un secondo! Rimettiti in posizione, Ale! No, no, tu sei qua, vieni qua, il bai sei qui! Rimettiti lì, rimettiti lì, rimettiti lì, rimettiti lì! Che schifo, che stai fai? Aspetta, hai quattro stelline che devi incroppare me, c'è, vado a dire? Hai capito, come stai, uomo? Girati, 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 lo so, ti piace, però girati, perfetto! Proste, bimba, il microfono, siete di andare! Allora, qua! Dio, buono, ti do! Sì, qua! Guardate un attimo, dai tranquillo! Mi saponami un attimo il tuo amico, qua! Vieni qua con l'acqua! Ti piace la mano della stellina? Ti piace la mano della stellina, qua? E adesso? Fermati! Mettiti giù, mettiti giù! Deve scontare fino a dieci! Dieci! Conta fino a dieci di dose! URRA! Senti, ma adesso, vuoi ricominciare? Prendi il guanto, provi di fare quello che ti dicono loro, no? No, no, va bene! Cosa si fa la doccia? Il bidet, intanto! Ora, per quattro stendini che ho, mi servono di due uomini! Bello! Indicami altri due! Ragazzi, ragazzi, date un guanto anche a lui! Devono avere un guanto per uno! Grazie a tutti!